Ecco qui, benvenuto. Oggi ti accompagnerò in questo percorso, in questo viaggio, che vedrà un programma nuovo basato sull'implementazione dei risultati e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Innanzitutto vi avvicino alla mia collega che è giunta alla fine di questo percorso, quindi alla fase di certificazione, che è il momento importante proprio perché ha saputo trasformare i suoi obiettivi in risultati. Prima però di arrivare a questo certificazione sono necessari degli altri step. Quindi lo step precedente è quello che ora sta facendo l'altra mia collega, ovvero come vedete sta facendo delle fotografie che sono le prove degli obiettivi che ha raggiunto e che poi riporterà in un documento. Questo documento dovrà essere popolato, popolato dell'action plan, quindi la pianificazione delle vostre azioni e degli obiettivi rispetto agli obiettivi che avete scelto, cosa che sta facendo l'altro mio collega. Quindi lui sta implementando il suo action plan, pianificando le proprie azioni per raggiungere i suoi obiettivi. Prima di fare questo arriviamo al punto in cui tu sei ora, ovvero scaricare il documento più importante, cioè il diario di bordo. Il diario di bordo è il documento che ti accompagnerà in queste sei settimane di percorso all'interno del nostro Dreaming Hub e che ti darà poi tutto lo storico finale del tuo percorso. Saluto a questo punto la collega che vi congratulo che ha fatto la certificazione e ha terminato il percorso. Congratulazioni. Ti ringrazio per avermi seguito in questo viaggio e buona informazione.